Santo notarnico la biografia. Trascorre l'infanzia in un istituto. A 13 anni emigra a Torino dove vive la madre. Iscritto alla FGCI poi al PCI, si allontana presto dalla sinistra istituzionale per legarsi a gruppi rivoluzionari anarchici. Nel 1963 incontra Pietro Cavallero, con cui forma una banda di rapinatori, che compiono una serie di 18 rapi nel 16 gennaio 1967, nel corso di una rapina a Cirie, la banda uccide il medico Giuseppe Gaiottino. L'ultima rapina avviene il 25 settembre 1967, quando prendono d'assalto il banco di Napoli in Largo Zandonai a Milano. La polizia riesce ad intervenire, nel corso della stessa, nel tentativo di catturare i rapinatori, ne consegue un lungo inseguimento con sparatoria in mezzo alla folla. Il risultato fu di quattro morti e l'arresto di uno dei componenti della banda, mentre gli altri due riescono a fuggire. Dopo otto giorni di latitanza, tra le campagne della pianura padana, Notar Nicola e Pietro Cavallero vengono arrestati il 3 ottobre. Il processo presso la corte di Assise di Milano inizia il 3 giugno 1968 e dura 21 udienze, la sentenza dell'8 luglio infligge l'ergastolo a Notar Nicola, come pure a Cavallero e Rovoletto. Il carcere non spegne il suo spirito rivoluzionario, infatti insieme agli altri detenuti si batte, rivoltandosi contro le condizioni carcerarie nelle quali i detenuti erano costretti a vivere, riuscendo a conquistare con queste prime rivolte, una serie di diritti loro negati, dell'avere carta e matita per poter scrivere o avere più di un libro in cella a proteste contro il sistema penitenziario, le condizioni detentive, i decreti legge sulle carceri, come la lotta sul decreto di amnistia per i detenuti politici incarcerati durante l'autunno caldo o le condizioni detentive in massima sicurezza e l'introduzione delle carceri speciali e del regime in 41 bis, articolo 41 bis codice penale. Partecipò alle rivolte in carcere, che segnarono la storia carceraria italiana di coloro che vi furono imbrigliati per tutto il periodo antecedente e successiva la legge Gozzini. Nel novembre 1976 tenta di evadere con altri quattro detenuti del carcere di Favignana attraverso un tunnel sotterraneo che viene però scoperto dagli agenti. Nel 1978 è il primo nella lista dei 13 nomi indicati dalle Brigate Rosse come detenuti da liberare in cambio del rilascio di Aldo Moro. In carcere studia, legge e scrive, Feltrinelli pubblica il suo primo libro nel 1972 e l'Evasione impossibile ed è autore di diversi scritti poetici. Alla sua prima raccolta poetica, con quest'anime inquieta, Torino, senza galere, 1979, seguirà la nostalgia e la memoria, Milano, Gimage, 1986, dal 1995, in regime di semilibertà, gestisce il pub Mutania a Bologna. Dal 21 gennaio 2000 è libero. Nella cultura di massa. Nel film Benditi a Milano di Carlo Licciani, ispirato alla storia della banda, il suo ruolo fu interpretato da Don Bach il cui obiettivo finale doveva essere quello di accumulare denaro per finanziare future azioni rivoluzionarie. Il titolo del suo libro La nostalgia e la memoria diverrà anche il titolo di una canzone dell'album Terra di nessuno degli assalti frontali, Gianfranco Manfredi e gli Onda Rossa Posse gli dedicano canzoni.